Ciao belli Stop la musica E se no è Poi no dopo le cose, capito Ciao belli, buonasera Vector mi sa che non c'è stasera Perché non ha cambiato il sbignadero Quindi Facciamo festa ragazzi Quando il gatto non c'è I topi Pem Schioppano di felicità Chiaramente Ciao belli Posso alzare il volume finalmente Perché Yusam? Adesso dimmi perché mi devo già incazzare Dai, sentiamo subito Grazie MaxGen Come la va? Tutto bene, tutto bene Adesso sentiamo Yusam che dirà Eh non mi piace quel tipo di musica Io ascolto solo La musica di cartoni animati No? Dai Ho giocato sul Discord Si era dimenticato che era venerdì Sto scemo di merda Perché sono cazzo fortissime Le canzoni del pre-live Quindi devo tenerlo basso E appena parte il tuo volume Non sento più un cazzo Perché sei troppo basso Perché sono calmo Sono un tipo calmo Perché sono un tipo calmo Yusam Per quello Non è che è basso il mio volume Che parlo basso Se no potrei parlare tutto il tempo Così Ciao ragazzi Ben ritrovati in questa live Però mi sento Probabilmente un imbecille Capito? A volte lo faccio Ma infatti A volte lo sono un imbecille Non è che No Che cringe Ma poi pensi a quest'ora di notte Che faccio Adesso andiamo subito A giocare ai videogiochi È un casino A parte che duro due minuti Poi svengo Mi cago addosso Per terra sdraiato In questa chiazza marrone È un casino Dai Grazie MK Da c'è Psygo Cosa c'è I Black Sabbath Mi fanno schifo Una bomber No Non è vero Però non li ascolto Cosa volete? Cosa mi chiamate? Nome e cognome Cosa volete? Si può sapere? Cosa volete? No Se vi parlo così A vicino al microfono Se vi parlo così E prendete suono Mi si sono tirati tutti i peli Della barba Mi sono incastrati tutti i peli Si è sentito? Non so Però Possiamo fare le live Non ASMR Ma un pochino calme Un pochino per Adagiarci sul No? Sul Lungo Tragitto Della Della notte Il tragitto Di Sonnolenza Ma io sono attento a tutti Dottor Cisafrulli Poi se ti stanno picchiando Difenditi Cioè voglio dire Facilissimo Finché non mi addormento Infatti Tanto Cioè le live notturne Vanno così Partiamo a mezzanotte Siamo in 200 in chat A mezzanotte E 10 Siamo 200 in chat Solo che 190 Non scrivono più Perché stanno dormendo Già Capito? Però ogni tanto Passano a moto E fanno Ma Capito Ah Vector Benvenuto Vector Sei arrivato Nella live giusta Questa sera Giochiamo A qualche Videogioco Sei pronto? Vector Mi hanno già Snicciato tutto Che ti eri scordato Comunque Me l'hanno già Snicciato prima Mi hanno detto Eri su Discord Che non ti ricordavi Assolutamente Che era venerdì Non ti dirò Chi è stato A snicciarti Praticamente Le fave Sono Un legume Fantastico Uno dei miei preferiti Psyco Quindi Evitiamo questi doppi sensi Ecco È stato È stato L'emox Ciò Chiamano Multiversus Così Perché non M'è andata A me La stream Pagata Eh Perché non M'è andata A me No Non si è visto Nessun Penis E Guardate che bello Che è Il diavoletto Della Fuckmania Tra l'altro C'è anche L'etichetta Sbiadita Qui Un concetto Di indizio Diverso Non capisco Guardate Guardate come gira Poi fa Eh Avete visto È lui È lui Porca miseria L'ho rificcato Nel pertugio Lì Che vi guarda Da lì dietro Grazie Plinio No Non è Carlos Lui Avevo un pelo pubico Di tazzo In bocca Quel personaggio Doppiato da Karim Sì Ah Perché non avevo Un cazzo Da giocare L'ho detto Ah potrei fare anche Faster than light Però non c'evo Troppa voglia Potrei fare Multiversus Che Cioè In realtà Non è che mi ci sono infognato C'ho Cinque ore Mortacci L'ho aperto una volta Però Nel senso Eh Ho voglia di un pochino Di Sciallarmela No Di sciallarmela Un pochino Nel mentre che Spacco i culi Su Multiversus Magari parliamo Dei cartoni animati Della nostra infanzia Perché quelli della Warner Sono i più belli Per dire No No Ringjob Non lo facciamo Non c'ho testa Veramente Se devo fare un gioco Complicato Stasera Svengo Per terra Mi cago addosso In una chiazza marrone No È terribile Non Non potrei mai farlo Eh Purtroppo Vale così Che ti devo dire Che fatica Eh Ma non so Mutanti C'ho i pantaloncini Gialli Chi è che c'ha le mutande gialle Non esistono delle mutande gialle Ragazzi Sì Poi se subate Se fate 100 sub Sdraiato per terra Che mi cago addosso Lo faccio sopra Lo zerbino di Vector Però Vado in Calabria No Non esistono I rene Menzogne Facili Non esistono No Rosa Niente Ringjob Purtroppo Gli anelli Anali Non ho voglia di leccarli Codè stanotte Menzogne facili Si è tutto unito Eh Grazie Numax Allora Sono indeciso Se aprirlo Subito Oppure Volete sapere Qualcosa di me Così a caso Non soppiate abbastanza Gli anelli rings Con la salsa barbecue Da me L'unico posto Che mi consegna a casa Fanno i peperoni ring Sono tipo Gli onion rings Però Con il peperone dentro Però Fanno cagare Cioè ogni volta Che li prendo Rimango deluso Che ho mangiato Stasera Ho mangiato Una piadeina Con la bresaola La rucola E il grana E un peperoncino Ormai sto mettendo Un peperoncino Al giorno Due peperoncini Al giorno A pranzo E a cena O ovunque Poi li ho messi Anche ad essiccare Anche una Una succa Di peperoncino Una cordina Di peperoncino Li ho messi A essiccare C'è un oracolo C'è un oracolo Di Vale Che chiede Faccio bene A ricominciare A giocare Ad animal crossing Che per ricominciare Mi pare Tu intenda Proprio Riniziarlo Da capo Vediamo un poco E' vero Che prima o poi Moriamo tutti Ma prima De meglio Poi Quindi Meglio che inizi Subito Forse Vale Solo riaccendere Il gioco Meglio prima Che De meglio Poi Perché eri scritto Con il tre tette E culo Con la Q Mirko Un fatto Di gioventù O di altro Vedere qualche Domanda Sulla mia vita Vediamo 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 Il pevroncino Il giorno È il cagotto Di ritorno No perché sono Non piccano un cazzo Il pevroncino Nelle mie piante Non piccano un cazzo Quindi Cioè piccano Poco però Almeno per me Che lo sopporto molto Non piccano molto quindi non caco fuoco ecco top 3 peperoncini diavolicchio calabrese o comunque i peperoncini quelli piccolissimi che sono il top perché non si sprecano perché ne prendi un intero piccano a bestia, hanno un sapore bestiale poi secondo abanero qualsiasi, tanto sono tutti uguali terzo terzo non lo so quelli verdi o rossi sono uguali basta che sono piccolini top ristorante di urbino, chi cazzo ci va a mangiare urbino già un dito nel culo a arrivarci ma c'era l'hype 3 no? ragazzi che roba top 3 vertien allora mi piace il primo sicuramente valentino poi c'è succhia e il terzo è clementino anche mi piace moro io avendo molta stima per te avrei una domanda che mi preme farti da tempo per me è molto importante vorrei una risposta che sia ben ponderata perché so che sei capace di fare discorsi molto belli e seri quindi ci mostri le stats? bene eeeh poi no che insiro no eeeh poi ah no dai bans non parlate male di rene curtapulli che non può leggere la chat lo perma bannata no vector cosa fai? rimuovi il ban? è un grande bastardo vector eh non mi lascia divertire non mi lascia usare il mio potere non mi lascia questo bastardo vabbè Irene potresti ricontrollare se hai ancora il follow perché mi pare che ogni tanto quando perma banni togli anche il follow non vorrei eh ti chiedo scusa comunque eh vediamo chi hai dietro di te la regina Elisabetta vedi non si vede un po' il suono sfocato no aspetta no no Vector non lo banno solo perché non ho voglia di poi rimettergli la moderazione bravo Delpy Irene sì è un bel nome peccato non dovrebbe toglierlo ah bene bene ottimo ottimo di solito non mi preoccupo perché me ne frega un cazzo di chi banno quindi non che voglia dire che me ne frega qualcosa di Irene naturalmente perché quelle sono le tue tre serie tv preferite Scrubs poi non lo so a pensarsi c'ho solo Scrubs che è quella proprio top che mi viene in mente e basta peccato per i cognomi e poi se sicuramente ce le ho e che non mi vengono in mente a parte Scrubs che sono grande fans Fantaghiro ce l'ho in videocassetta tra l'altro lì no eh target infila qualcosa in bocca mentre sbadigli che fa ridere quante stagioni ha Scrubs? 8 e mezzo perché c'è la 8 spin off che voi pensate che sia la 9 che però eh non è una stagione vera no c'è uno spin off della 8 che è su Sunny non lo sapevate questo eh io non l'ho mai vista però quella mezza perché non credo si trovi da nessuna parte grazie Dr. Brain eccolo qui il numero di mesi perfetto eh no 7 non è perfetto è 2000 mi pare perfetto quindi dovresti continuare a riabbonarti capito ecco avevo una compagnia di teatro che si chiamava Irene ma la chiamavano sempre Alice ma perché? scusami top 3 salumi top 3 salumi mi piace questo giochino delle top 3 aspetta quella è una web series quella di Sunny vabbè è sempre uno spin off comunque eh Scrubs ha solo 8 no è una stagione è una stagione effettiva invece ragazzi quindi mi spiace cazzi vostri poi può piacere o non piacere ma c'è ma in realtà nel non ce l'ho qui il cofanetto di Scrubs dov'è? ce l'ho da un'altra parte mi sa che nel cofanetto di Scrubs non c'è la nonna stagione comunque dicevo top 3 salumi sicuramente il salame il salame è però la golfetta la finocchiona e il cacciatorino sono tutti e tre salami perché il salame ragazzi è top best salume ever devo partire dal basso verso il vincitore no non me ne frega niente va bene cos'è la golfetta? è un salame è quello è quello cioè se lo vedi intero è un rotondo schiacciato sembra una forma di formaggio tipo si taglia a fette le fette sono larghe così la mortazza no mi fa schifo ho mangiato la zia ferrarese no vale perdonami potresti anche visto che palesemente sapevi che nessuno nella faccia della terra sappia cos'è questa zia ferrarese potevi anche direttamente spiegare cos'è no grana grossa o grana fina il salame fina la bresaola è buonissima ma non mangiata così mentre gli altri sono pluriedrici la bresaola con la rucola il grana un filo d'olio e limone è spettacolare però è no ma è un salame per una volta che ero in contesto ho capito ma mi ha detto la zia ferrarese perdonami sarà anche in contesto ma comunque non so cos'è cioè non so che salame è perlomeno sono tre pagine il termoracolo che potete acquistare da amazon è quella dell'origano ma è l'unica che mi rimane in mente purtroppo quindi solo quella cazzo è la golfetta ma non sapete come non sapete cos'è la golfetta ma un sacco così non sapete cos'è la golfetta no la mortadella la mortadella penso che sia l'affettato con il profumo migliore sulla faccia della terra dopo la golfetta no non è vero forse anche più della golfetta cioè quello che quando lo senti ti fa più fame di tutti solo che solo a guardarlo divento fatto di unto io quando mangio le cose così grasse che le sento da lontano che sono grasse divento olio sudo cioè al posto del sudore mi esce fuori olio extravergine di maiale quindi no no la golfetta non è lunga è larga cioè le fette sono lunghe dipende dal punto di vista come il lardo però che buono però il lardo non lo mangi come la mortadella ma perché rosa che problema chirurgico sono tre personaggi del termo sono troppi non riesco a pensarli uno è il trenino marco sicuramente nonché vincitore del della termo verse league quindi per forza di cose olio di kenshiro grazie trielitium no non conosco il prosciutto violino di capra non ho idea di che cazzo siano queste cose non potete presumere che una persona conosca queste cose palesemente inesistenti scusatemi sulle bruschette con il miele ti giuro non pensavo fosse essere io l'ho rivalutato l'avevo già detto il lardo mi fa schifo perché la consistenza non mi piace però l'ho rivalutato ultimamente ma solo appunto nella bruschetta che lo metti sopra si scioglie un po' lì tantissima roba però per il resto non mi fa schifo scarto anche il grasso dal prosciutto l'ho detto l'ho detto scarto il grasso dal prosciutto mi fa schifo mi fa schifo la consistenza cioè non è neanche mi fa schifo perché come il grasso sono quelle cose che mi fanno fame però quando mi tocca la bocca è una delle poche cose che io mangio tutto mangio però ci sono pochissime cose che mi danno questo fastidio e la pancetta è meglio del guanciale comunque anche quello volevo dire perché togliamoci il dente via ecco però lo sopporto il guanciale ma è meglio una pancetta senza dubbio senza dubbio assolutamente tolto il dente tolto il dente che lo dice anche il terreno oracolo tra l'altro tanto Mary non c'è questa sera in live non mi pare di averla letta quindi sono a posto con me stesso non rigadrà mai questo pezzo non linkateglielo mi raccomando ecco ma poi io dove lo trovo il guanciale ogni volta che voglio fare la pasta io ce l'ho sempre in realtà veramente che non rompere il cazzo è la stessa roba il guanciale e la pancetta è la stessa identica roba solo che la pancetta rispetto al guanciale ha un po' più di ciccia che è meglio che è meglio eh per favore comunque il guanciale penso che in tutti i supermercati ormai lo trovi top 3 musicisti non saprei dirtelo perché non sono un così fruttore della dolce musica è più dolciastra la pancetta rispetto al guanciale dipende che pancetta prendi bisogna iniziare a parlare un po' di cibo non sembra nemmeno un attuale no effettivamente ma moro ma poi il quadro che cazzo di quadro volevo comprarmi devo stamparli dei quadri da mettere là dietro non l'ho più fatto devo farli stampare dalla mamma della Cree che a San Patrignano hanno la credo una tipografia robe del genere quindi devo vedere se può stamparmeli in formato A4 ben bene se no devo vedere devo farmeli stampare ho tre video occhi giocati quest'anno non mi ricordo niente di cosa ho giocato quest'anno sono cose che ci devo pensare quindi non non posso pensare stasera ragazzi se inizio a pensare svengo lungo per terra mi cago adosso in questa chiazza marrone non posso ho tre live di lino ma non lo so quelle di quelle non so come cazzo ce le dico poi anche volendo non me le ricordo non me le ricordo top 3 numeri interi 23 17 e basta non c'è una top 3 sono solo due top 3 coni cosa vuol dire di che tipo gelati cioè di top 3 gelati o top 3 cornetti algida tipo no troppo di streamer non le dico mi fanno cagare le le tier list di streamer irrispettosissime cazzo è conio cono che conio questa è una cosa che dobbiamo fare poi anche nella 12 ore le top 3 ma che cos'è top 3 toni top 3 fabrizi ma io come devo rispondere a queste cazzate top 3 birre e hogarden perché poi anche lì cazzo vai a toccare tutto un che tipo di birre trick e track la hogarden sicuramente una delle mie preferite poi non mi vengono in mente poi saccente termoraculo ma lello finanza e ricky marketing vanno d'accordo mi sconsenta la ciuff è buona ma non è tra le mie preferite quella con lo gnomo sarebbe la ciuff top 3 termosifoni cazzo siamo in quattro vale non si può fare una top 3 la leff no la hogarden si però tutto attaccato che così suona un pochino giardino delle prostitute non va bene corn fuckers buonasera una pilla top 3 it estive non so i titoli delle canzoni mie preferite comunque rosa quindi non posso rispondere neanche a questo io i gruppi i miei gruppi preferiti se mi dici il titolo della tua canzone preferita di quel gruppo ce l'ho in mente magari me la canto però non la so non so volete me la canto non è vero scherzavo banek grazie per la sub non ve le faccio top 3 top 3 l'avete scritto sette volte non fa ridere non fa fa schifo è una battuta di merda va bene top 3 gente in chat non si può fare questo è irrispettoso top 3 tagli di carne filetto le costine sono un taglio di carne sì quindi le costine e filetto costine boh no guanciale no dipende filetto costine e lonza mi piace mi piace top 3 legname pino frassino e abe l'ho detto completamente a caso in realtà non mi cazzo top 3 top 3 animali da compagnia cane gatto e lontra top 3 terzini sinistri dibala e poi top 3 piante da orto e il peperoncino il basilico e il rosmarino che poi non sono troppo piante da orto in realtà diciamo allora cetrioli melanzane e pomodori top 3 motorini phantom booster e basta top 3 moschettieri aramis portos e lyrox la vespa non è un motorino la vespa non esiste tra i motorini non lo ricordavo l'altro moschettiere scusate top 3 dolci miseria top 3 dolci mi fanno schifo i dolci top 3 pizze top 3 pizze marinara bosca boscaiola marinara boscaiola la boscaiola è funghi e salsiccia per chi non sapesse un cazzo come rosa che ha scritto eh non sa marinara boscaiola prendo solo queste due io e la margherita perché vabbè la margherita va sempre bene no vale ormai devo continuare mi son preso da dio mi son preso top 3 regioni d'italia eh toscana naturalmente pensando solo al cibo emilia romagna e lazio ah quello c'hai ragione vale che schifo kendrick top 3 dita della mano l'indice che è il più utile l'indice il pollice e l'anulare queste qui top 3 anche era otrebor grazie top 3 jostredigal non me ricordo top 3 denti non saprei non so i nomi il pollice per me è il primo posto no l'indice è molto più utile del pollice cioè è vero che il pollice è prensile quindi è molto utile però cioè io li metterei alla stessa importanza ecco top 3 tra tisane perché tra barra tisane top 3 tisane comunque eh tisana la menta tisana cannella e arancia tisana limone zenzero e finocchio mi pare no era menta liquirizia e finocchio una buonissima una invece era menta lime e zenzero e una era eh cannella e arancia top 3 topic termosifonici cibo eh litighiamo eh pro player nei videogiochi top 3 caravelle la maria la pinta e la san gesuppi giuseppina posso iniziare a silenziare quelli che scrivono top 3 top 3 si 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 top 3 videogiochi metal gear solid saga final fantasy 10 from software saga dark souls 1 top no top 3 top 3 generi di film ostia non lo saprei dirtelo top 3 attori nemmeno top 3 streamer di twitch maleducatissima come domanda come domanda no però se risponde maleducatissimo quindi non lo faccio top 3 motivi per fare il fantacalcio non ne trovo top 3 cibo per paese ecco devo dirti top 3 di ogni paese come faccio siamo fino a 2012 che però c'è capito resettando un casino di tempo un botto top 3 merendine ma non mangio molte ma sapete che non mangio un cacchio io in realtà cioè mangio tutto nel senso che ingurgito qualsiasi cosa mi venga data però non è che mangio molta roba top 3 smartphone boh cazzo li segue più gli smartphone sono tutti uguali mo quindi top 3 tutti praticamente top 3 periodi storici grazie Bresaula eh top 3 periodi storici eh di nuovo Bresaula rivoluzione industriale antico egitto la preistoria top 3 stili di birra bianca eh lager eh la IPA è difficile la IPA dipende solo qualcuna quindi ma rinascimento Moro dai le basi no top 3 paesi con il cibo migliore ma paesi intendi l'Italia Toscana Emilia Romagna Lazio era il top 3 delle regioni di prima praticamente se intendi mondo se intendi mondo e l'Italia non saprei il mondo dovrei mangiare prima le cose del mondo non la Puglia sono offeso nella top 3 no però sicuramente non è troppo sotto top 3 elementi della tavola periodica lo stronzio l'Ulz il poi boh bast top 3 bucket list boh top 3 bucket list come non so dovrei stilarla prima casino facciamo una live dove facciamo le nostre bucket list top 3 offese il molibdeno è molto bello è vero top 3 offese maledetto indegno sapido imbecille bravi flebile cazzo cos'è chi si cazzo troppo insulti per vi onster e non stronzo no troppo maleducato gli insulti sono belli quando sono pacati il consiglio della prima repubblica dibala non mi ricordo gli altri top 3 caravelle ho fatto la cliff fa squint perché proprio delle caravelle no rosy non ci provare con irene che quella lì è un po' pazza si chiama irene pattume oltretutto quindi non so se ti conviene top 3 personaggi di scrubs todd no todd che cazzo dico volevo dire oh no ho perso la memoria ragazzi turk volevo dire turk jd no in realtà metto cox turk e jd che insomma in realtà sono tutti belli todd non però no todd è fatto proprio per essere un testa di cazzo quindi no è di bala che cazzo è joy top 3 tipi di pasta spaghetti rigatoni sedanini brozorf quella domanda la vai a fare in live da vertian va bene ecco top 3 friends chandler joy e basta assolutamente non quell'altro imbecille come si chiama quello sfigato ecco top 3 di the office e ross esatto ross fa schifo veramente schifezza febi dai sì di the office invece è d come cazzo perché non mi vengono i nomi stai che problemi ho comunque coso è d d dwight esatto dwight michael per forza e jim dod ecco poi fa vedere cosa c'era aspetta che mi sono persi eravate quasi fate la sfilza di top 3 scoregge del culo top 3 personaggi dell'austria settentrionale top 3 piselli di gomma e poi mi vedete quelli seri e io non li devo recuperare brutti scemi porca miseria fammi vedere cosa c'era top 3 jojo e jotaro e joseph quello delle prime delle prime stagioni gli altri fanno cagare un po' gli altri fan schifo ma non ho laggato mi hai fatto cagare mi hai fatto solo quei due comunque joseph è l'unico fighissimo scusami è l'unico che spacca i culi rompe tutto chi vi piace è joseph che è un imbecille dai è giorno anche giorno giovanna è vero scusami ne ero completamente scordato non so perché però si joseph fa schifo fa tutta quella stagione è una merda non è vero però è la più brutta fa schifo solo a te rosa mi piace questa è la conferma che fa cagare slumdunk non l'ho visto il migliore di usare lo stand fa schifo non importa c'è jotaro usa lo stand sfonda tutto via fatto poi nel su stone ocean fa figura in merda però capito anche i suoi anni su stone ocean 12 mi pare bisnonno ma ha 12 anni top 3 fiere comics in italia no 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 top 3 pagina di termoracle l'ho già fatto top 3 festival annuali boh non li so top 3 dolci non li so i dolci cioè la allora top 3 dolci top 3 dolci porca miseria il il cestino di frutta quello con la crema con la frutta sopra no il tipo crostatina poi il la sucker l'unica cosa al cioccolato che merita di esistere praticamente e la e poi il babà minchia il babà è un dolce soprattutto proprio il babà cacato sopra le altre cose zitto vale comunque c'è una qual è la top 3 definitiva chiede al nao la top 3 di non sfidiamo il califato questo dissim per il cioccolato no non è che è un dissim non è che fa schifo il cioccolato è che è la cosa più sopravvalutata che esiste nella terra ecco poi fanno il video guarda questo video guarda che che buono che buono e vedi questo qui americano palesemente con questo uovo kinder di pasqua dove dentro ci mette la nutella il burro lo strutto la la panna e tutto poi lo chiude poi lo mangia e dice oh che buono lo vorrei mangiare mi ci sfondo ma vaffanculo vai andatevene affanculo andatevene fatelo adesso lo fai mi mandate il video fate il video dove fate questa cosa e me lo mandate ecco questi qui guarda tirami su molto buono però praticamente americani sì ho visto il video di cosa mangiamo oggi in america dove tipo prendeva hanno preso praticamente solo biscotti ogni 5 minuti si fermavano a prendere un biscotto ed erano tutti così alti così erano delle dei ciambelloni croccanti di cioccolato erano mangiateveli voi esatto come per gli oreo non arriverà poi nessun video perché fa schifo ragazzi mi date ragione vedi ho tre opinioni scomode sul cibo la pancetta è meglio del guanciale la cioccolata è sopravvalutata e il grasso nel prosciutto fa cacare però erano quelle di stasera quindi l'oreo non è un un'opinione scomoda fa cagare punto quello clippate Mermere no non clippate Mermere sta dormendo poverina non disturbatela top 3 peggiori film della marvel quelli vecchi vecchi dico quelli vecchi vecchi top 3 aminoacidi essenziali dibala sissoko e bakayoko io quando voglio respirare mangio un oreo io quando ho voglia di fumarmi una sigaretta mi mangio un oreo è la stessa cosa il prosciutto no more domani avrà una denuncia a suo carico se vuoi te lo spedisco Brozorff è la cosa più semplice da mangiare che in sciro va bene top 3 brooklyn 99 non mi ricordo un cazzo ragazzi coso boil li gina e rosa si chiamava rosa o è l'attrice rosa non mi ricordo anche terry però la miseria al posto di rosa terry ma perchè i plunchi che ha la bamba sono buoni così perchè me li devi rovinare con la bamba con enrico papi che me li porta top 3 silksong non si può fare gina linetti si la segretaria top 3 piloti di formula 1 dibala nkulu bakayoko top 3 capoluoghi della lombardia no no top 3 souls like bloodborne dark souls 1 elden ring top 3 figli di ferragnez leone vittoria si chiama la seconda e dabo non so corno come mai top 3 giochi in scatola voodoo monopoli primo è monopoli poi c'è voodoo anche se non è tanto in scatola ragazzi quanto fa schifo cluedo comunque ma a parte quel gioco più brutto exploding kittens bellissimo dai così perchè non giochi il gioco in scatola si no è in scatola voodoo però ti muovi fai le pirouette no veramente cluedo è il gioco più di merda che esista cioè cluedo boh non so perchè ha fatto cioè cluedo capisci un attimo la meccanica è una cazzata subito istantaneamente capisci subito risico bellissimo non lo so non so giocare a risico eh spetta eh spetta spetta top 3 formaggi top 3 formaggi gorgonzola burrata anzi stracciatella che la parte fuori della burrata chi se ne frega gorgonzola stracciatella e squacquerone poi è anche bello da dire squacquerone porca miseria che buono che è di bala no non mi piace come formaggio risico per i borghesi sono 3 film trash che fanno ridere da quanto fanno schifo ma non ne ho guardati chissà quanti di film trash tipi di pasto ho già fatto top 3 pizza fatto top 3 confetture marmellata di more marmellata di prugne marmellata di arancia ma situazionale però marmellata di more non si batte ragazzi la bicocca è buona però queste sono le top 3 sono più buone queste altre non sono marmellate quelle di more di prugne sono confetture vale eh non me ne frega un cazzo hai capito l'unica marmellata che hai citato era quella all'arancia effettivamente ecco top 3 di cani beagle e eeeh corgi eeeh mi piacciono questi due mi piacciono da tutti tutti i gnomi delle feci di subito appena una cosa che ah io so questa cosa me l'han detta da quando ho scoperto internet adesso anche io so che la marmellata è di agrumi e la confettura e di frutti eeeh quindi adesso vado anche io su internet a fare il saccente ma non me ne frega un cazzo tanto lo caghi comunque uguale eeeh ma già l'ho appena fatta la top 3 di formaggi vale top 3 dei non saprei comunque erano gorgonzola stracciatelle e squacquerone vale top 3 funghi presi ad amsterdam da vale porcino veramente il fungo più sopravvalutato della storia dei funghi perché ci sono i galletti però stiamo parlando di i galletti la manita cesarea i finferli sono i galletti vale non mi confondere e i chiodini i chiodini i finferli o galletti si vale galletti perché sono gallinacea qualcosa non mi ricordo o finferli poi ci sono i chiodini invece che sono quelli fini fini piccolini che quelli con le tagliatelle è la fine del mondo incredibile top 3 marchi liquori whisky gin eccetera non quello lì è vale l'uomo delle marche dei liquori da bartender a me di whisky piace il black label il il tomintowl che mi ha regalato d'abo molto buono e il lagavulin però ce ne sono uno sfraccello dipende top 3 console non lo saprei il nikka è veramente da da borghesi del cacchio e basta top 1 film di alien non mi piace alien lagavulin nikka e talis ah il talis che era anche il talis che era sky è buonissimo il nikka non vale la spesa non vale la spesa secondo me top 3 cibo cinese top 3 gusti gelato sapete che non vado matto per il gelato sfiuso le grappe non ne bevo se ce la bevo però non sono pazzo di grappe medicinali non li prendo sono no vax no non è vero però effettivamente non prendo molti medicinali piuttosto muoio devi provare un piccolo gelato qui sotto sta indicando il sottopalla corn per caso top 3 vaccini che stronzi top 3 liquida sigaretta elettronica burley kentucky e black cavendish mi pare gli amari non ne vado matto generale dei liquori top 3 bevande zuccherate cedrata tassoni coca cola e te e te vogliamo dirlo che il jack daniels è merda di stilare non lo sanno tutti che il jack daniels è proprio quello da poracci quello del cazzo pepsi volevi dire ti sei sbagliato non è uguale la coca cola e la pepsi ragazzi è la stessa roba dovuti a fare i sommelier non è vero io bevo la coca a zero ragazzi ed è uguale è uguale non è che bramo il caos e che è la stessa cosa sono entrambe una cola poi cambierà un pochino la senti la differenza ma sono buono e uguali perché sono la stessa roba sono tre motivi per cui litighi con Marco eh ce ne sono troppi non mi vengono in mente top 3 cioccolate top 3 cioccolate c'è cos'è? della Novi quella che ci sono nella scatolina di cartone con tutti i gusti tipo menta peperoncino lime quelle lì sono buonissime e basta assolutamente non la lint potrei farvi la worth 3 delle cioccolate perché c'è la vabbè la milca ma quello lì è proprio sparare sulla croce rossa però la lint fa cagare ragazzi che il trasport non è male dipende quale prendi però cioccolata perugina eh io abbi ma ragazzi la lint tutti che tutti ah la lint la cioccolata più buona incredibile sa di burro sa io lo succo è su un cazzolo tu il burro il toblerone è buonissimo il toblerone porca miseria top 3 pentole ma il tipo quindi tipo wok la padellina quella bassa e poi quella con il bordo un po' più alto che poi che cazzo vuol dire scioglievolezza esiste secondo me no per intortare i poveri scemi che comprano la lint l'importante sia fondente no non è vero al latte best no in realtà la 9 quella che dico io è tutta fondente però dipende cosa mi va dipende con cosa l'accompagno probabilmente nelle barrette di cioccolata si solo fondente top 3 linguaggi di programmazione https slash slash e poi le altre due top 3 cibi street food il pollo fritto i panini i panini sono street food e boh c'è troppa roba e gli arancini no gli arancini sono meglio dei panzerotti baresi porco brado l'ho mangiato a rimini al street food festival era l'unica cosa che c'era nello street food festival c'erano tre stand uno era quello il kebab ha anche un street food porca miseria mi raccomando arancino va bene va bene Alan si stessa roba tante suppli va bene il suppli arancino si parla di top 3 triunf top 3 videogiochi che non puntano sulla graficona pompata lupiro hollow knight e rimworld anche se hollow knight in realtà c'è una grafica della madonna che non è pompata cioè dipende cosa intendi undertale top 3 moderatori vale corn e vector vector per ultimo perché prima mi ha fatto un dispetto naturalmente top 3 colonne sonore dei videogiochi near automata è difficile qua near automata hollow knight no vale non puoi ho disabilitato le clip near automata hollow knight no zelda no cioè non nella top 3 più che altro e no neanche metal gear per quanto sono capolavori però cioè a parte che spesso sono musiche non originali e cazzo undertale però undertale mi piacciono poi quelle che hanno rifatto dopo le fan made skyrim no assolutamente chi cazzo se la ricordo quella è una sonora di assassin creed brotherhood blood bro nel del ring e robe del genere si però non ti rimangono in testa come queste qui o bradine death 3 però death stranding non sono host non sono original soundtrack almeno mi pare non ce ne cioè non so se non mi ricordo tutte quindi nel fantasy 8 ho finito e o bradine era bella la la background music era molto carina però non è tra le migliori è molto bella però cazzo dai una terza sicuramente nier sa soprattutto nier automata minecraft bellissimo e hollow knight e boh undertale dai oh bradine è incredibile però non è nella top 3 assolutamente ma quella di halo è iconica però non la metto nella top 3 ok top 3 libri fantasy non leggo grounded c'ha una colonna sonora bella top 3 personaggi dei simpson boh non li guardo da 15 anni della sto fans non l'ho giocato no è arrivata Mary purtroppo no non può più scrivere Mary non può più scrivere Mary questa sera oh miseria cosa sarà successo si deve no no corne no no qui c'è un po non si può fare comunque sulle osi dicevamo non mi distraite per autore più che per gioco no dipende abbassa moro ok chi è che abbasso cosa che paura grazie inzottri oh Mary ma non è successo niente mi preoccupare è possibile intraprendere una carriera su youtube con un baggio di 100 euro avendo una buona qualità telecamera non compresa no non ho detto schietto no un pc costa diciamo almeno 8 volte tanto quindi direi di no e non intendo un pc per giocare magari non vuoi giocare però comunque non penso proprio anche per montare i video tutto no non credo 100 euro top 3 parole che iniziano per esse troppo volgare vale si già solo per montaggio e rendering 100 euro non ci compri neanche un ssd quasi squacquerone è molto bella come parola top 3 corn factory fabrizio federico fabrizio top 3 personaggi alla tv quando eravamo piccoli ma io quando guardavo la tv da piccolo non la guardavo per davvero cioè semplicemente ero davanti la tv top 3 cartoni animati go kart mattina cazzo di cartoni animati davano go kart mattina manco me lo ricordo dopo che non metti di bala a caso non era a caso comunque siete voi che siete ignoranti top 3 ingredienti da mettere in un panino dipende da che panino perché il panino è anche un hamburger è anche un kebab però diciamo pulled pork maionese non insieme dico i top 3 degli ingredienti poi ci può stare anche bene insieme e cipolla top 3 colli di roma non conosco il collo delle persone romane mi spiace non so che particolarità abbiano top 3 tuoi anni di scuola top 3 i miei anni di scuola ti direi forse seconda media prima superiore no non è vero quarta e quinta superiore top 3 cipolle che vuol dire sono tutti uguali cipolle cipolle di top cipolla rossa di top uguale alle altre ragazzi quindi dai anche lì top 3 risale della tua vita non me ne ricordo rido un botto rido io sempre tutti i giorni tranne da quando ho aperto la partita IVA non rido più ciao Martenus top 3 cornetti ordinati da corne mai arrivati quello al pistacchio quello al cioccolato quello qualsiasi top 3 fondute non faccio la fonduta puzza no non è vero che non l'ho mai fatta la fonduta la vorrei fare ma te le ricordi pure quello al pistacchio ci sarà stato quello alla nocciola pure la nocciola top 3 esperienze traumatiche che ho vissuto sono traumatiche quindi non le voglio rivivere non le ho perse top 3 shampoo non me li ricordo top 3 insetti che sono entrato l'altra volta mi è entrato un passerotto in camera mi è entrato un passerotto in camera mi sono svegliato alle 6 di mattina con questo passerotto rincoglione che mi girava in camera fuori vai vai fuori parmigiano lasagna assolutamente la lasagna parmigiano sopravvalutatissima top 3 macchine da rally preferite la ford fiesta la punto e la lancia delta integrale oltre a termoverse da troppi personaggi tu non eri da integrale eh infatti se mi fai finire corn cazzo top 3 panini del mcdonald's vado da una vita al mcdonald's non so neanche che panini ci sono comunque sottovalutate la fiat punto da rally ragazzi è stata la migliore macchina da rally per un periodo tra l'altro top 3 the boys cosa personaggi top 3 materie del liceo preferite anche se era una sega chimica fisica era una sega perché i professori erano esigenti però sapevo un botto di roba fisica chimica e meccanica anche se meccanica il professore era un incompetente però era divertente farla perché c'era la pratica che schifo il messo di materie ma senti questa faccia di cazzo ecco hai fatto il liceo moro no ho fatto l'itis dove appunto c'era chimica poi dopo sono andato al professionale e ho fatto lì meccanica ciao Akane sei arrivata stasera è una serata top 3 Akane top 3 rompipalle in questa chat Seneri Akane e Vector Arcadia Arcadia non passa da un po' se passa le tiro uno schiaffone le tiro mi aspettavo Seor è vero avete ragione che non c'è adesso quindi non mi è venuto in mente poi cosa stavano dicendo poi un insetto è morto cazzi suoi sto goglione poteva sopravvivere invece non ha voluto Akane tutto il giorno che vlogga bravissima top 3 insetti di Fermignano non lo so top 3 insetti in generale l'ape bellissima l'ape e la formica e babo sono troppi top 3 paesaggi da vedere Machu Picchu le cascate del Niagara e le le fronzoli del nord Europa come si chiamano le le frastagliature della Norvegia come si chiamano le sbruzzallate delle coste i fiordi i fiordi ecco esatto non mi veniva ragazzi eh capito i fiordi quanti l'avete scritto volete continuare a scrivere i fiordi eh 7 miliardi di merda di fiordi ho capito tre nazioni dove non sei mai stato e vorresti andare non sono stato da nessuna parte però ti dico Scozia Norvegia o Svezia o quello cioè la quello là la penisola impulsica come si chiama la come si chiama lassù comunque il nord Europa tutto il nord Europa vale tutto la Scandinavia esatto i fiordi basta la Scandinavia ragazzi mi piacerebbe molto andarci ma prima vorrei andare in Scozia forse ti devi diballa ho tre scimmie ma che schifo fan cagare le scimmie ho tre ciabatte infradito penso come devo dire la marca la Scozia è bellissima ho tre paesi asiatici Giappone gli altri sono tutti morti ok ci sono ci sono ci sono sono presenti audio c'è l'audio parlo parlo mi sentite mi sentite mi sentite mi senti audio audio mi senti mi sentite mi sentite mi sentite Grazie a tutti